ben ritrovati amici perché della mia generazione e in gioventù sapeva che il modo migliore per utilizzare un pallone era con le mani piuttosto che prenderlo a pedate si ricorderà di michael jordan e dei suoi chicago bulls ma il perché una città come chicago fosse così tanto affezionata ai bovini da intitolare la sua franchigia di basket a loro l'ho scoperto grazie al gioco di oggi ovvero union stock arts vediamo la scatola eccola qui leggiamola un po dunque 45 90 minuti di durata più 90 minuti che 45 2 5 giocatori da 3 in su mi raccomando 14 più l'età ideato da duane wolf ed edito dalla solid rock che ringrazio per avermi fornito la scatola protagonista del video di oggi dico da subito che questo gioco parla di macello di animali infatti chicago era la macelleria degli stati uniti e tra la metà del 1800 e l'inizio del 900 venivano macellate in questa città l'80% del fabbisogno di carne degli stati uniti lo dico da subito perché comunque è un gioco con un tema chiamiamolo scottante passatemi il gioco di parole però voglio riallacciarmi a quello che è scritto sul regolamento e lo dico già dall'inizio del video perché è un qualcosa che si è allineato tanto al mio pensiero per quanto riguarda giochi con temi particolari ma anche scomodi il gioco vuole essere un racconto della storia di questa città non vuole né mitizzare né demonizzare quello che è successo lo vuole raccontare e quindi questo è un gioco che comunque piaccia o non piaccia racconta una parte della storia americana che da lì in avanti ha anche dato il là a tanti cambiamenti come il controllo qualità sugli alimenti il controllo delle condizioni del lavoro delle persone il controllo delle controllo delle condizioni di vita anche degli animali che facevano questa fine quindi senza tutti questi passaggi anche storici non si poteva arrivare alla situazione attuale e quindi voglio già essere contento di parlarvi di questo gioco perché hanno avuto il coraggio di parlare di qualcosa che magari a qualcuno potrebbe non piacere solo per il suo argomento per quanto riguarda il gioco in sé per sé si tratta di un un po un ibrido perché un po un controllo territorio anche se comunque un gestionale un azionario un gioco economico estremamente divertente comunque è un giocone lo vedrete tra poco e vi dico già che sarà una recensione iper rileccata perché io lo sto adorando quindi la spiegazione che partirà tra poco non voglio dire che sarà lunga però i suoi concetti ce l'ha ci vediamo dopo per tutte le considerazioni del caso per cui vediamo come funziona sistemiamo il tabellone al centro del tavolo qui dovremo piazzare questo gettone che saranno più nemmeno il partito al governo per quest'anno su un lato scelto a caso detto tra noi potete anche lanciarlo in aria come se fosse una monetina e vedere quello che esce a fianco del tabellone dovremo piazzare le cinque carte specialista tutte scoperte mentre questi due mazzi di carte saranno questo gli edifici li utilizzeremo sempre tutti facendo una pila di carte scoperte mettendo sul fondo quelle della terza era chiamiamole così rappresentate dalla lettera c nel mezzo la b in alto la a di queste dovremo pescare le prime quattro carte da essere piazzate qui su questi spazi sul regolamento non c'è scritto ma ve lo dico io andate già a prendere i pezzi relativi agli edifici che saranno stati sorteggiati e piazzatele vicino alle carte per fare eventualmente le prove per il posizionamento poi tra poco ci arriviamo potete anche metterli per problemi di spazio direttamente sul tracciato segnapunti tanto prima del conteggio finale se sarete arrivati a questo livello sarete già troppo avanti questo invece sarà il mazzo delle carte anno dovremo sorteggiare una carta per ognuno dei sei anni che saranno i sei turni di cui è composta una partita e creare una pilettina con l'uno in cima il sei in fondo e nel mezzo carte in ordine crescente il gettone pugno chiuso del sindacato andrà piazzato sulla casella dell'uno di questo tracciato di cinque caselle qui in questi esatti spazi andranno sorteggiati questi gettoni e piazzati casualmente uno per ogni spazio a seconda del numero di giocatori al tavolo dovremo piazzare meeple diversi per quanto riguarda le mucche i maiali e le pecore in questi spazi per esempio in tre giocatori partiremo con due meeple per tipo infine gli indicatori neri del prezzo del bestiame andranno piazzate ognuno sulla casella più bassa del relativo tracciato ogni giocatore sceglierà un colore per ricevere la sua plancia personale le cinque carte del suo colore per quanto riguarda i lotti di terreno che potrà andare comprando esattamente una moneta esattamente un gettone morale basso e poi un etto e mezzo di legno in varie forme e dimensioni composto da un etto abbondante del capannone principale più i segnalini del prezzo del bestiame per il suo margine andranno piazzati esattamente su due caselle in alto rispetto alla casella più bassa c'è comunque l'indicazione sul tabellone su dove piazzare questi indicatori una stellina che partirà dall'uno del tracciato della forza del proprio brand e sulla stessa casella andrà piazzata la stellina del primo giocatore in basso e in cima quella dell'ultimo e nel mezzo gli altri in modo coerente ci sarà anche un segnapunti ognuno partirà con lo stesso punteggio della sua posizione iniziale nel turno quindi il primo giocatore partirà con un punto il secondo con due e così via e poi ognuno avrà anche un numero diverso di lavoratori e di casette in base al numero di partecipanti se andrà da tre a quattro lavoratori a seconda se stiamo giocando in tre quattro o cinque giocatori mentre le casette saranno sei cinque o quattro a testa comunque su queste caselline della plancia del giocatore ci sarà scritto quante sistemarle lì all'inizio della partita in base a quanti staremo giocando verrà poi scelto un primo a caso facendo poi tutte le sistemazioni del caso come ho spiegato prima al quale andrà dato il sobrio segnalino del primo giocatore in ordine inverso di turno ognuno dovrà piazzare il suo capannone iniziale su uno spazio valido tra quelli disponibili questa è la plancia per 35 giocatori e questo è lo spazio intero che sarà sempre disponibile indipendentemente dal numero dei giocatori quindi in tre giocatori saranno disponibili questi tre spazi per i capannoni in quattro questi due agli angoli in cinque ovviamente tutti dopo quindi questo piazzamento del capannone iniziale saremo già pronti per iniziare una partita a questo gioco se articolano esattamente sei turni tanti quanto il numero di carte hanno sistemata in quel mazzetto la prima fase del turno è quella nella quale arriverà nuovo bestiame da essere piazzato lì nel mercato arriverà tanto bestiame quanto il numero di icone dello stesso tipo di bestiame che saranno presenti alla sinistra del segnalino del prezzo per esempio all'inizio anche nel primissimo turno arriverà un capo per tipologia ma per esempio se questo segnalino anziché essere qui alla base fosse già in questa zona arriverebbero due capi di bestiame più in alto ne arriverebbero tre e così via sottolineo due concetti importanti il piazzamento dei nuovi meeple del bestiame avverrà anche all'inizio del primo turno di gioco la seconda cosa è che per ogni tipologia di bestiame saranno presenti solo sei caselle laddove dovesse arrivare un settimo ottavo e così via semplicemente non piazzeremo niente anche perché detto tra noi nella scatola ci sono sei sei e sei meeple quindi anche volendo non si può fare la seconda cosa da fare sarà girare la carta anno in cima al mazzo questa verrà piazzata qui in questo spazio a livello analitico le carte anno saranno fatte così intanto in alto e comunque nella descrizione testuale ci sarà un appendice storiografica che ci spiega cosa succede in questo anno con anche una foto d'epoca in alto a destra c'era scritto quanto far avanzare abbassare o se tenere fermo l'indicatore del sindacato faremo comunque avanzare spesso di conseguenza o retrocedere molto raramente di conseguenza quell'indicatore dopodiché potrebbero esserci due tipologie di carte anno una con un effetto che si risolverà immediatamente e una invece senza effetto però che darà ai giocatori uno spazio in più nel quale piazzare un proprio lavoratore come quella che è stata pescata in questo momento per quanto riguarda la scala del sindacato fin tanto che il segnalino rimarrà tra le zone bianca e grigia non succederà niente se invece dovesse arrivare su una casella rossa ci sarà uno sciopero quindi ogni giocatore dovrà perdere un lavoratore per questo turno che verrà piazzato qui a fare un picchetto e riceverà un segnalino basso morale a livello analitico la scala del sindacato è un po' una parte semicooperativa del gioco perché affliggerà comunque sempre tutti i giocatori che potranno far abbassare questo indicatore con il sistema che vi dirò tra poco quando vi spiego le azioni però di fatto si abbasserà per tutti anche se comunque ci sarà un vantaggio per il singolo che lo farà abbassare per quanto riguarda invece i segnalini basso morale questi saranno il sistema più pratico alla fine della partita per perdere tonnellate di punti poi ci arriviamo sappiate però che meno ne avrete a fine partita meglio è quindi tornando alla fase preparatoria si gira la carta in cima al mazzo si applica l'effetto per quanto riguarda il sindacato e l'eventuale evento stesso della carta e se l'indicatore del sindacato arriverà su una casella rossa ci sarà uno sciopero e quindi i giocatori perderanno un lavoratore e prenderanno un segnalino morale basso se invece l'indicatore dello sciopero del sindacato rimarrà nella zona grigia questa parte si salterà i giocatori non prenderanno il segnalino malus e giocheranno con tutti i loro lavoratori a questo punto andiamo nella fase cuore del turno quella del piazzamento lavoratori in questa fase partendo dal primo e procedendo in senso orario ognuno piazzerà un lavoratore in uno spazio per compierne appunto l'azione associata passando poi la parola a sinistra ognuno piazzerà un omino per volta e se andrà avanti in questa fase fino a quando tutti avranno piazzato tutti i loro omini prima di spiegarvi le tipologie di azioni che potremo sbloccare vi dico che ci sono tre tipologie di spazio sul quale piazzare i nostri lavoratori intanto potranno esserci due tipologie di ellisse quelli più grandi potranno ospitare un numero illimitato di lavoratori dello stesso giocatore o di altri giocatori mentre quelli piccolini potranno contenere ognuno un massimo di un lavoratore per giocatore anche se comunque degli spazi potranno avere più ellissi piccolini in quel caso lo stesso giocatore potrà compiere più volte la stessa azione andando però a selezionare ellissi diversi purché comunque non siano stati già selezionati da altri giocatori e quindi siano pieni quindi in breve uso molteplice e uso singolo la terza tipologia è quella degli spazi con il bestiame per quanto riguarda il bestiame saranno attivi solo gli ellissi sui quali è presente un capo di bestiame quindi di fatto il nostro lavoratore lo sistemeremo al posto del capo di bestiame che poi verrà scartato perché di fatto lo andremo a macellare e allo stesso tempo anche se sono presenti più ellissi all'interno dello spazio della stessa tipologia di animale potremo macellare ogni tipologia di animale massimo una volta a turno quindi anche se in un turno successivo avessimo comunque spazi per mettere un nuovo lavoratore se quel tipo di animale l'abbiamo già macellato in questo turno non potremo macellarlo una seconda volta e quindi vediamo tutte le azioni percorribili dai giocatori partendo appunto dalla macellazione quindi se per esempio volessimo macellare una mucca scarteremo il segnalino con la mucca mettendoci sopra un nostro lavoratore e prenderemo subito del denaro la macellazione infatti è il sistema in questo gioco con il quale prenderemo un maggior ammontare di denaro in una botta sola purché comunque abbiamo del margine a macellare quel tipo di animale prenderemo una moneta per ogni spazio che separa l'indicatore del nostro margine di profitto dall'indicatore del prezzo di quel capo di investiamo in questo caso due monete perché a due caselle di distanza se la situazione fosse stata questa avremmo preso sei monete e così via d'altro canto a forza di aumentare i valori delle merci senza comunque aumentare il nostro margine capiterà sicuramente nell'arco della partita che per almeno una tipologia di animale andiamo a pagare di più per acquistarlo che di quanto guadagniamo vendendolo e quindi se macellassimo in questo caso dovremo pagare noi al gioco due monete anche se detto tra noi non intraprenderemo mai l'azione in una situazione di questo tipo però per il punteggio di fine partita sarà importante avere un margine anche se minimo per ogni tipologia di animale poi ci arriviamo e sottolineo ancora una volta che in questa situazione potremmo andare macellando i puerci e le pecore ma non un'altra volta le mucche perché le mucche le abbiamo già macellate una volta in questo turno andiamo adesso in questa zona del tabellone che è quella relativa alle costruzioni questo spazio sulla sinistra permette al costo di due monete di comprare un appezzamento di sei caselle piazzandoci sopra una nostra carta questa potrà essere piazzata ovunque sulla plancia purché non ci sia già una carta di un altro giocatore quindi per l'appezzamento non sarà stato venduto o un edificio di qualsiasi giocatore quindi per esempio la potremmo piazzare qui in continuità del nostro capannone badate bene che la stessa carta la potremmo piazzare anche in bocca al capannone di un altro giocatore potrebbe tornare utile per fare qualche soldino tra poco ci arriviamo l'azione qui accanto è quella che ci permette di costruire uno dei quattro edifici disponibili anche se la carta in cima al mazzo è scoperta questa non sarà selezionabile solo le quattro direttamente sul tabellone il costo per compiere questa azione è appunto interrogativo vi spiego subito perché intanto ad ogni carta sarà sempre associata la sua forma di edificio quindi dovremo prendere il pezzo e piazzarlo lì in quella zona in continuità con il nostro capannone potremo orientare come vogliamo questo pezzo purché comunque mantenga la sua dimensione originale il primissimo che piazzeremo dovrà essere direttamente adiacente al nostro capannone tutti quelli che arriveranno poi dovranno essere collegati indirettamente da altri pezzi al nostro capannone principale il costo per piazzare nuovi edifici sarà sempre di una moneta per ogni spazio che stiamo calpestando che non abbiamo già acquistato e quella moneta andrà al proprietario di quello spazio inizialmente tutta la plancia è di proprietà del gioco quindi in questo caso siccome per quattro spazi su cinque siamo sulla nostra carta di prima non pagheremo niente perché abbiamo già comprato quel terreno questo unico pezzo questo unico quadratino che rimane al di fuori della carta lo dovremo pagare perché ancora del gioco quello spazio e quindi in questo caso daremo una moneta al banco se invece la situazione fosse stata questa avremmo comunque risparmiato i soldi per quanto riguarda gli spazi sopra alla nostra carta però qui avendo calpestato un terreno di proprietà di un altro giocatore daremo a lui la moneta per il quadratino che stiamo occupando quindi come dicevo prima andare a comprare lotti di terreno addosso ai capannoni degli altri potrebbe fruttarci delle monete considerando che al costo normale ogni gruppo di sei caselle costa sei monete con queste carte li paghiamo due monete sole quindi è estremamente conveniente comprare lotti di terreno però avremo solo cinque carte a testa finite quelle non potremo più compiere questo tipo di azione costruire nuovi edifici permetterà comunque di aumentare il nostro margine di vendita per alcune tipologie di animale basterà seguire le icone presenti sulla carta e aumentare di conseguenza il nostro indicatore potrebbero anche darci degli avanzamenti sul tracciato della reputazione del nostro brand e faremo avanzare di conseguenza la stellina tutto ciò che punti accanto alla bandierina saranno punti da darsi alla fine della partita appena comunque avremo costruito rimpingeremo subito la fila delle carte e se state dietro al consiglio che vi ho dato andrete subito a cercare il nuovo edificio e lo metterete vicino alla carta alcune carte edificio potrebbero avere anche in basso a sinistra uno di questi simboli ci saranno cinque tipologie diverse di simboli di tutti tranne che di uno saranno presenti due carte con lo stesso simbolo di un quinto tipo saranno presenti tre carte con lo stesso simbolo se un giocatore collezionerà tutte le carte di quella tipologia prenderà anche la carta specialista dello stesso tipo e la metterà davanti a sé la quale darà nuovi avanzamenti per i prezzi di vendita di determinati tipi di animale e anche dei punti affine ripeto però che solo chi prende tutte le carte con determinati simboli se già due giocatori si spartiscono carte con lo stesso simbolo state sicuri che nessuno prenderà niente e per chiudere per quanto riguarda il piazzamento degli edifici ogni qualvolta piazzeremo un nuovo edificio prenderemo anche un punto per ogni edificio dello stesso colore accanto al quale abbiamo piazzato il nuovo che stiamo piazzando quindi per esempio se piazzassimo questo piccolo edificio lo potremo piazzare qui e sarà collegato indirettamente al nostro capannone principale e comunque siccome è marrone accanto a un marrone prenderemo un punto ho parlato prima della scala della forza del brand ci saranno due azioni che ci permettono di avanzare su quella scala ce ne sarà una che ci permetterà di fare due passi in avanti pagando due monete una invece gratuita che ci farà fare solo un avanzamento a intervalli irregolari ci verrà permesso avanzando su quella scala di incrementare i margini di alcune tipologie di animali laddove su quella scala arrivassimo su una casella su cui è presente la stellina di un altro giocatore semplicemente metteremo la nostra in cima e sarà considerata più avanti di tutte quelle sotto questo è importante perché quel tracciato è la condizione di pareggio a fine partita per vincere in caso di pari merito di punti avremo poi questi due spazi che ci permettono al costo di una moneta ciascuno di costruire un negozio in una qualsiasi città perché ci sia ancora spazio libero lì piazzare una casa ci permette di ricevere immediatamente il bonus istantaneo della città che potrebbero essere di nuovo avanzamenti sui margini dei punti o della reputazione del marchio però potrebbe anche darci dei punti a fine partita come vedete infatti accanto al nome di ogni città sono presenti due caselline uguali ai simboli che troviamo su questi gettoni ogni qualvolta a forza di piazzare nuovi edifici arrivassimo a toccare uno di questi gettoni lo piazzeremmo immediatamente nelle città a livello analitico ci sarà un gettone che rappresenta ogni città per esempio questo rappresenta la città nella quale ci siamo piazzati in questo caso lo metteremo per forza lì ci saranno poi due gettoni con l'asterisco che saranno semplicemente dei jolly che potremo piazzare in una qualsiasi città ognuna potrà contenere un massimo di un jolly insieme al suo gettone di proprietà per ogni gettone portato lì da un qualsiasi giocatore riceveremo due punti per ogni nostra casa quindi in questo momento quella casa da valere zero come un minuto fa adesso vale due punti se ci fossero entrambi i gettoni varrebbe quattro punti è possibile tranquillamente per un giocatore possedere più case nella stessa città anche tutte se riesce avremo poi lo spazio sopra il gettone del partito al governo in questo momento laddove ci fosse il lato democratico come in questo caso questo ci permetterà di perdere un segnalino basso morale e di abbassare di tre caselle l'indicatore del sindacato di fatto è il partito vicino ai lavoratori dall'altra parte invece ci sarà il lato repubblicano quello più vicino agli industriali in quel caso lì avremo un'azione che al costo di tre monete ci permette di costruire due casette con un'unica azione nella stessa città o in città diverse lo spazio accanto al gettone del partito al governo ci permetterà di prendere due punti di prenotarci per il primo giocatore per il turno successivo e di scegliere il partito al governo per il turno successivo poi tra poco ci arriviamo infine ci saranno questi tre spazi il primo in alto permette se non ci fosse comunque il gettone democratico lì al governo di perdere due monete ma di far calare di due l'indicatore del sindacato e di perdere un gettone basso morale questo più più grande permette al costo normale di costruzione di mettere giù un corridoio i corridoi saranno di fatto questi pilloloni di una casella di dimensione che potranno permetterci di arrivare a dei gettoni per comunque prenderne il controllo e piazzarli per far aumentare di valore le nostre case nelle città detto tra noi in tante partite che ho fatto ne ho mai visti utilizzare da nessuno infine ci sarà quest'ultimo spazio più grande che permette di piazzare l'omino e di ricevere una moneta a livello strategico sarà importante utilizzare questo se avremo già macellato il macellabile o se comunque il nostro indicatore del margine sarà a zero o negativo rispetto al prezzo d'acquisto solo in quel caso comunque converrà utilizzare quello spazio lì infine e poi chiudo ci potrebbe essere lo spazio relativo alla carta anno in gioco quelli saranno veramente tantissime tipologie di spazio che potremo trovare a costo di qualcosa gratuite che faranno fare veramente tantissime cose detto tra noi è il motivo per il quale merita essere primi giocatori perché sono spazi estremamente forti rispetto agli altri che troviamo sul tabellone dopo quindi che tutti i giocatori avranno piazzato tutti i loro lavoratori andremo alla fase successiva come prima cosa potrebbe esserci un'elezione laddove un giocatore si fosse prenotato in questo esatto spazio quel giocatore riceverà il primo giocatore sarà appunto il primo per il turno che arriverà tra poco e sceglierà il verso del gettone da mettere in gioco per il turno successivo se nessuno si era prenotato in questo spazio semplicemente non succederà niente il gettone al governo rimarrà quello e il primo giocatore rimarrà primo giocatore dopodiché tutti riprenderanno possesso dei loro omini piazzati e anche di quello eventualmente a picchetto per lo sciopero infine dovremo aggiustare i prezzi di vendita delle tre tipologie di animali gli indicatori neri dovremo verificare il numero di capi avanzati qui nella zona degli animali in vendita laddove i mipol avanzati fossero uguali per tutte e tre le tipologie tutti gli indicatori di prezzo farebbero un passo in avanti aumentando di uno il loro costo per i giocatori se invece come in questo esempio non ci fosse un pari merito perfetto andremo prima a vedere la zona in cui ci sono meno capi avanzati questi secondo la logica di mercato sono la tipologia di merce più richiesta e quindi il prezzo aumenterà di esattamente tre caselle della tipologia invece di cui ci sono più capi avanzati secondo la logica di mercato c'è meno domanda e quindi il prezzo scenderà esattamente di due caselle e se come in questo caso ci fosse un pari merito che fosse per il minor o per il maggior numero di capi avanzati tutti i pareggianti prenderanno o perderanno il valore pieno quindi in questo semplice esempio di gioco le mucche avanzeranno di tre come costo per i giocatori i maiali e le pecore abbasseranno di due a questo punto ripartiremo con il turno successivo tale e quale come fatto adesso e andremo avanti così per sei turni completi alla fine dei quali andremo al conteggio finale dei punti ai punti già ottenuti dai giocatori assegnati e saranno veramente pochi alla fine della partita aggiungeremo un punto per ogni moneta avanzata ogni giocatore poi dovrà compiere un'ultima macellazione di animali guadagnando o perdendo in questo caso punti quindi in questo semplice esempio di gioco per le mucche perderemo dei punti per i maiali e per le pecore ne guadagneremo verrà poi stilata una classifica di arrivo per quanto riguarda il tracciato della forza del brand il giocatore più avanti prenderà nove punti il secondo sei il terzo tre gli eventuali quarti e quinti zero vi ricordo che in caso di pari merito sarà primo che è più in alto sulla stessa pila di stelline verificheremo poi per ogni città il valore di ogni casetta vi ricordo che ogni casa varrà due punti per ogni gettone lì presente poi aggiungeremo tutti i punti derivanti dagli edifici che avremo costruito e dalle carte specialista che avremo acquisito infine in base a quanti gettoni di morale basso avremo a fine partita seguiremo questa tabellina per perdere quei punti considerate che sono dei punti persi in modo esponenziale quindi un solo gettone farà perdere due punti almeno 5 ne faranno perdere 30 vince chi fa più punti in caso di pari merito vincerà tra gli spareggianti che è più avanti sul tracciato della reputazione del brand ed eccoci qua di ritorno partiamo dai materiali che sono particolari perché comunque quando si apre questa scatola si vedono quei masselli di legno ci tornano alla mente tutte quelle costruzioni in legno che magari per chi ha dei bambini piccoli come il sottoscritto tornano alla mente però poi sono estremamente funzionali per la parte a poli omini che abbiamo sul tabellone tabellone che è estremamente ben fruibile per quanto riguarda le icone e quello che possiamo fare con i vari spazi nei quali piazzare i nostri omini per quanto riguarda il resto dei materiali la fa da padrona la componente storiografica perché comunque su ogni carta è presente un'immagine d'epoca che sia una fotografia o una locandina con la sua descrizione di quello che vuole rappresentare dietro alle plance dei giocatori ci sono le storie dei cinque magnati della carne che i giocatori impersonificano nel gioco e quindi comunque è un gioco che colpisce sia per quanto riguarda la fruibilità dei suoi materiali ma soprattutto per la ricerca che c'è stata dietro cosa che a volte diamo per scontata però in questo caso è veramente un grosso valore aggiunto per quanto riguarda le meccaniche avete visto che sono estremamente schematiche e lineari si parte nel turno girando un evento ed assecondandolo quindi aggiungendo uno spazio in più per le azioni dei giocatori oppure facendo succedere qualcosa dopodiché si comincerà la fase di piazzamento lavoratori nella quale comunque i giocatori cercheranno di fare le loro azioni principalmente per guadagnare dei soldi per investirli nel miglioramento della loro filiera costruendo degli edifici se ci sarà ancora spazio all'interno comunque di quel appezzamento che sarà comune a tutti i giocatori per cercare di andare avanti fare i punti e vincere la partita dopo sei turni si fa il conteggio e appunto chi fa più punti sarà il vincitore la sensazione quando si legge questo regolamento è che ci sia tanta carne al fuoco questa me l'ero preparata però mi piaceva troppo per non dirla perché comunque abbiamo un piazzamento lavoratori che però è estremamente tematico almeno per quanto riguarda quello che potremo fare perché comunque ci sarà questo mercato virtuoso del prezzo degli animali che è una figata pazzesca sarà su quello che ci concentreremo per fare il denaro e badate bene che sarà importantissimo imparare il criterio col quale utilizzarlo perché potremo fare delle bastardate che non vi dico vi faccio un semplice esempio gli animali sono tre e basta che uno lo portiamo ad essere quello con minori capi avanzati e quello avrà il prezzo che schizzerà alle stelle basta invece comprare quel tipo di animale il turno dopo e magari lasciare che su quel tipo di animale ci siano più capi avanzati e quindi il prezzo scenderà di diverse tacche e quindi comunque sarà importante per i giocatori sì cercare di salire per quanto riguarda il loro margine ma soprattutto di mettere bastone tra le ruote gli altri giocatori su quei tipi di animale dove non hanno margine perché comunque alla fine della partita volenti o nolenti tutti dovranno fare una macellazione per punti e non per soldi e quindi se riusciremo a marginare tanto su quell'aspetto faremo veramente un salto perché bene o male alla fine della partita avremo accumulato nei sei turni intorno ai 10 punti se va bene parecchi li faremo alla fine della partita mettendoci i soldi che avremo mettendoci soprattutto le carte edificio che avremo però ecco è tutto importante perché gli edifici meno male li faranno tutti c'è chi ne farà qualcuno di più c'è chi ne farà qualcuno di meno però comunque quelli faranno salire il margine d'acquisto però costeranno anche del denaro perché dovremo cercare di comprarci i lotti di terreno anche quella è una meccanica che ho reputato geniale perché il lotto ha un valore di sei quadretti quindi sei monete se mi compro il lotto con la carta lo pago due e quindi all'inizio della partita saremo incentivati a comprare un lotto davanti al nostro capannone principale e quindi a costruire gratis almeno gli edifici più piccoli ma andando avanti con la partita sarà importante anche comprare la terra da sotto i piedi agli altri giocatori così che ce la paghino cara oppure gli impediamo di espandersi con tutti i loro edifici perché comunque ci dovranno pagare per farlo e quindi c'è una parte grossa di interazione diretta tra i giocatori intanto per il mercato per il prezzo delle bestie e anche per il mercato del terreno che comunque sarà finito mi è piaciuta anche tanto la meccanica con la quale che arriva sull'estremo opposto del terreno di costruzione prende quei gettoni che incrementano i valori delle case costruite nelle città e quelle daranno dei bonus istantanei e poi c'è anche la meccanica della forza del brand della reputazione del brand che comunque sarà la condizione di pari merito a fine partita che non si è verificata spessissimo però ogni tanto sì perché comunque alla fine della partita si rimane veramente condensate nel punteggio e quella sarà anche una parte per salire con i margini sulle bestie sul prezzo comunque di macellazione per noi che potremo comunque attuare senza bisogno di costruire qualcosa quindi soprattutto in cinque giocatori quando l'appezzamento di terreno sarà praticamente pieno dopo tre o quattro turni quello sarà importante farlo salire perché ci permetterà di salire a nostra volta sulle margine per macellare nuovi animali bellina anche la meccanica del partito al governo che se sarà democratico permetterà di far scendere la forza del sindacato e quindi permettere ai giocatori di evitare di far scioperare i lavoratori che saranno pesantissimi perché già quattro sono pochi almeno in tre quattro giocatori se ce ne leviamo anche uno è veramente difficile arrivare in fondo al turno aver fatto tutto e quindi quella una meccanica di semicooperazione tra i giocatori che comunque permette a chi fa scendere la forza del sindacato di levarsi i token del morale basso sarà impossibile arrivare in fondo alla partita senza nessuno di questi gettoni sarà importante magari limitare danni rimanendo su un due tre gettoni che comunque sono una soglia di malus abbastanza accettabile da cinque in su è praticamente impossibile vincere perché avremo le gambe tagliate a soffitto quindi in conclusione è un gioco estremamente godibile estremamente divertente trasversale se vogliamo perché comunque è un gestionale all'americana quindi può mettere d'accordo tranquillamente i giocatori euro che vogliono comunque un gestione azioni un piazzamento lavoratori con anche qualche giocatore america che comunque non disdegna i giochi euro chiamiamoli così perché comunque qui troverà veramente tanta ambientazione e anche il fatto che la parte a polio mini per piazzare gli edifici non sia fatta con del cartone fustellato ma con dei masselli di legno fa sì che comunque chi non abbia troppa dimestichezza con questo tipo di meccaniche possa trovare in queste componenti fatte in modo molto più grosso rispetto al normale un aiuto per poter piazzare piacevolmente ciò che vuole piazzare perché ci sono anche giocatori che non apprezzano questi giochi non per ma alla volontà ma perché non riescono a concepire le forme e questo aiuta veramente tanto quindi non posso che essere contento di aver provato questo gioco e di parlarvene perché non gli trovo praticamente difetti secondo nessun aspetto per quanto riguarda il suo prezzo union stock arts viene nuovo non meno di 70 euro purtroppo è una produzione quasi artigianale perché la casa editrice è nuova il progetto è indipendente venuto su dal crowdfunding quindi è abbastanza raro è un prezzo leggermente più elevato di quello che comunque ci si aspetterebbe dai materiali al tempo stesso visto che comunque non è così ben diffuso secondo me si può prendere e ridare via ma è vero che si darà via comunque alla stessa cifra per cui vale un po la regola del gioco usato insomma possiamo fare l'investimento per prenderlo e poi se non ci piace ripeto impossibile si potrà dare a qualcun altro allo stesso prezzo prova gratuita e siamo arrivati alla fine anche di questo video lasciatemi un like se vi è piaciuto o anche un commento se avete provato il gioco e volete raccontarmi cosa ne pensate in descrizione come sempre vi lascio tutti i modi per contattarmi e consigliare altri giochi il link al sito della solid rock che ringrazio ancora per aver reso possibile questo video qualche indizio su dove trovare il gioco di oggi negli stori europei il link al sito i wild e soul con le sue magliette ecologiche e il mio codice sconto board game italia con tutte le recensioni il canale gioco nausa per recuperare tutte le mie live del mercoledì wiga dove proverò a far partire un gia per il gioco di oggi appena uscirà questo video qui intorno a faccione vi lascio tutti i link al video che reputo importanti per essere rivisti vi anticipo il prossimo lo girerò su cooperation e se non siete iscritti cliccatevi sul pop up e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao